No al ridimensionamento del Ferdinando Veneziale, no all'impoverimento dei servizi offerti da un ospedale, quello di Isernia, che serve l'intero bacino dell'utenza Alto Molisana. Se passa il piano percopo a Isernia, saranno ridimensionati servizi salvavita come cardiologia, oncologia, nefrologia. In sostanza, gli infartuati dovranno essere trasportati a Campobasso e se ci arriveranno vivi sarà già un mezzo miracolo. Isernia perderà il funzionamento a tempo pieno di cardiologia, un reparto che era un'eccellenza regionale e che ha salvato la vita a centinaia di persone. Il grido d'allarme questa mattina in una seduta del Consiglio Comunale, convocata per organizzare un fronte comune in difesa del Veneziale. E c'è stata unanimità, nessuna distinzione tra maggioranza e minoranza. Io ho fatto una radiografia della situazione attuale in base a quello che dice il nuovo piano e l'ospedale Isernia è destinato nei prossimi due anni a essere chiuso, a diventare un poliambulatorio. E questo non ce lo possiamo permettere, non si può permettere la Regione Molise, non si può permettere nessuno toccare quello che è un diritto costituzionalmente riconosciuto, quello della salute, il diritto alla cura e alla salute. Noi dobbiamo fare tutto, dobbiamo anche fare le barricate per fare in modo che questo piano venga annullato o venga modificato. Qui abbiamo la possibilità come comune di Isernia, noi dobbiamo essere il primo comune come città capoluogo di provincia a fare in modo che tutti i sindaci vengano con noi per poter discutere effettivamente, fare una pianta, un piano alternativo a quello che è stato presentato per fare in modo che la sanità nella nostra regione, nella nostra provincia venga garantita. La difesa del Veneziale è una questione vitale per un capoluogo che piano piano sta perdendo tutto. Per questo il sindaco ha ricevuto il mandato del Consiglio a rappresentare un no secco del comune di Isernia al piano sanitario regionale Percopo nel corso dell'Assemblea regionale dei sindaci. Io credo che è impensabile in questo momento fare un ridimensionamento di quelli che sono alcune unità che sono presenti attualmente oggi nell'ospedale veneziale. Ecco, io credo che sono tutte cose che vanno messe insieme. Una cosa è certa, qualcosa la dobbiamo fare e soprattutto dobbiamo dare delle opzioni se qualcosa non ci sta bene.